Con il lancio del suo primo SUV Coupé completamente elettrico, la Cupra Tavascan, la casa automobilistica spagnola continua a ridefinire i confini del design e della performance nel settore dei veicoli elettrici. Basata sulla Showcar Tavascan presentata al salone di Francoforte nel 2019, questa vettura rappresenta la visione audace di Cupra per un futuro sostenibile ed elettrificato. Il linguaggio stilistico rompe le regole convenzionali con proporzioni sportive e atletiche. L'anteriore si distingue per il LED Matrix con una firma luminosa a tre triangoli, rendendo il SUV immediatamente riconoscibile. L'interno dell'abitacolo è un'opera d'arte, caratterizzato dalla spina dorsale centrale e dalle prese d'aria sottili, quasi invisibili, che creano un ambiente moderno. Cupra Tavascan è disponibile in due varianti di potenza, da 286 e 340 CV. La versione più potente, denominata VZ, è equipaggiata con un sistema di trazione integrale che combina due motori, uno per ciascun'asse, offrendo una potenza combinata di 340 CV ed una coppia di 545 Nm. Questa configurazione permette al SUV di accelerare da 0 a 100 km orari in soli 5,5 secondi, con una velocità massima limitata a 180 orari. L'autonomia dichiarata varia dai 522 km per la versione VZ fino ai 568 km per la versione Endurance. Ovvio, poi dipende da quanto si preme il pedale dell'acceleratore. La Cupra Tavascan non si distingue solo per le prestazioni, ma anche per l'innovazione tecnologica. Questo SUV è dotato di un sistema di infotainment con display da 15 pollici e una nuova interfaccia uomo-macchina con cursore retroilluminato. La collaborazione con Sennheiser Mobility ha permesso anche di integrare un sistema audio Hi-Fi da 12 altoparlanti, offrendo un'esperienza sonora decisamente di alta qualità. Per quanto riguarda la sicurezza, su Tavascan troviamo sistemi avanzati di assistenza alla guida, come il Connected Travel Assist, il cambio di corsia automatizzato e l'Intelligent Park Assist, che consente di parcheggiare il veicolo da remoto tramite un'app. Funzione decisamente comoda, tra l'altro il sistema è progettato per l'uso in spazi di parcheggio ristretti. Queste caratteristiche rendono la guida più sicura e confortevole, soprattutto su strade poco segnalate. Effettivamente la Tavascan rappresenta un passo avanti significativo per il marchio spagnolo nella transizione verso l'elettrificazione completa. Se però da una parte abbiamo un design audace e innovativo, prestazioni elevate e un'autonomia che la rende adatta anche ai viaggi più lunghi, dall'altra, con un prezzo che dovrebbe girarsi intorno ai 52 mila euro per l'Endurance First Edition, è evidente che questo la rende meno accessibile ad un'ampia fascia di clienti. Anche la tecnologia avanzata presente a bordo, dal sistema infotainment al sistema audio di alta qualità, aumenta l'attrattiva del SUV, offrendo un'esperienza di guida lussuosa e confortevole. Ma la produzione in Cina, anche se progettata e sviluppata a Barcellona, potrebbe sollevare preoccupazioni riguardo alla sostenibilità. Certo è che questo SUV Coupé 100% elettrico, dal design rivoluzionario, si rivolge ad una nuova generazione di appassionati di auto e segna per Cupra l'inizio di una nuova era. Grazie a tutti!